Eccoci qui come è stato, un saluto a tutti e ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like e iscrivervi da questa parte, attivate anche la campanella e mi raccomando iscrivetevi anche al mio canale personale, qui sotto vi metto il link, grazie per chi lo farà, poi vengo a controllare i nomi e cognomi e se vi va seguiteci anche su Instagram, la mia pagina personale Andrea Longoni e la pagina di Milanello, con presto tante tante novità. Ci avviciniamo alla gara che io racconterò in diretta per chi vorrà a QS e WS e poi ci sarà ovviamente anche il post partita, sperando che possa essere un buon weekend rosso-nero. Allora, ci sono tante novità, partiamo subito da che cosa? Intanto, per quanto riguarda dopo, tra poco parliamo di mercato, parliamo di discorso arabo con alcune novità, per quanto riguarda dopo mi aspetto una cosa, che Leao possa rispondere positivamente alle critiche ricevute, critiche che sono costruttive, al fatto che si cerchi un po' di spronarlo, ma anche di cocolarlo come ha fatto Pioli ieri. Ricordiamo che lui non segna da una vita, il 23 settembre, ferma appena tre goli in campionato, gli stessi dito mori per intenderci. Quindi Rafa, spero tanto che da oggi possa iniziare un nuovo campionato, una nuova stagione, propedeutica anche a fare bene in Europa League. Mettici del tuo, insomma, lo scorso anno lui segnò il suo assist di chetelare a San Siro in una delle prime partite con la maglia verde in casa col Bologna, speriamo che possa essere anche oggi quel tipo di partita con gol. Speriamo davvero che possa crescere e svoltare. Serve la svolta, ripeto, serve la svolta, caro Rafa. Per dopo ci saranno tre osservati speciali, ovviamente Tiago Motta, che secondo le news ieri dalla Spagna è anche in orbita blaugrana, dovesse essere esonerato il tecnico. Tiago Motta che è un papabile, sicuramente, ha delle buone chance, lui è conte, ci sono queste principali opzioni e altre sullo sfondo. E' detto che ovviamente non è che da oggi giudichi Tiago Motta. E' chiaro che lui avrà interesse a fare una partita a maggior ragione Gagliarda, tosta, per sperare che la sciatta di Mina possa ricadere su di lui. Detto che comunque una squadra la troverà, però Mina è una squadra molto importante. Poi c'è osservato speciale Ferguson, centrocampista molto interessante, sul quale però la concorrenza non manca, piace molto ad esempio anche la Juventus, sicuramente anche al club di Premier League. Ferguson, che è un giocatore che caratterizza il gioco di Tiago Motta, mi dovesse arrivare Tiago Motta, è chiaro che un pensierino a Ferguson e il Milan potrebbe farlo. A centrocampo serve un giocatore, almeno un giocatore che diventi un titolare o cotitolare. Ferguson mi piace molto e, ripeto, un punto di forza del gioco di Tiago Motta. Poi c'è ovviamente Joshua Zirze, che il Milan segue da diverso tempo, come ha detto ieri il nostro tecnico Pioli. Vedremo un po', contro Chiere Gabbia, come andrà. A San Siro lui ha segnato contro l'Inter, ha inizio campionato. Sono molto curioso di vedere che tipo di partita farà. Non segna da un po' di tempo, un po' in flessione, così come pare essere in flessione il Bologna. Ma io oggi non mi fido proprio di questo Bologna, che mi aspetto a San Siro venga a fare una partita, nelle intenzioni quantomeno tosta e Gagliarda appunto. Voltiamo pagina, capitolo mercato e poi novità sul discorso arabo. Allora, Milan che sta trattando l'acquisto di un giocatore sconosciuto a tutti, che è Bubba Sangaré. 16 anni, ne farà 17 d'agosto. Spagnolo 1,72. Trezzino destro, 1,72 a 16 anni. Poi comunque direi superare il 1,80 poi. Magari anche abbondantemente, dipende un po' dalla crescita. Giocatore del Levante, squadra però dei giovani, che nella Liga 2, seconda divisione, ha fatto in totale 3 minuti. Poi ha fatto 71 minuti in Coppa del Re. 5 presenze in under 17. Non lo conosco. Ho provato a cercare un po' qualche informazione. 18 partite, 12 da titolare. No, scusa, questo è un altro. È un 2007, ha giocato i primi minuti per il Levante e il seconda della spagnola. Appena un anno più vecchio di Camarda. È molto rapido, costa un milione e mezzo, due. Il Milan prova a prenderlo adesso, lasciarlo in Spagna fino a giugno, per poi portarlo il prossimo anno in primavera. O, più probabilmente, speriamo, si riuscisse a fare, e Milan, come vi dicevo qualche giorno fa, si è mosso concretamente, nell'Under 23, che è un passo intermedio tra la primavera e la prima squadra. Vediamo, magari è una monca data, alla Kalulu, giocatore sicuramente più giovane. Segniamoci il nome Bubba Sangare, che il Milan sta provando a prendersi per un milione e mezzo, due. Scusate, ho fatto un danno, recuperiamo subito. Milan che sulle fasce si sta comunque adoperando. E poi, attenzione, dicevamo ieri, conferme oggi dalla Gazzetta, Avi Lopez, 21 anni, spagnolo pure lui, Milan sta guardando molto in Spagna, della Lavesh, scadenza 2025, in questo caso è un'alternativa a Teoranandez, nell'idea del Milan, quest'anno ha fatto 18 presenze e 3 assist in Liga, 1,83, cui il Milan pensa per la fascia sinistra, appunto. Mentre per quanto riguarda Ferguson, diciamo, è scozzese, ha 24 anni, è 1,81, a scadenza 2027, quest'anno ha fatto 19 partite e 4 gole e 3 assist. 4 gole e 3 assist, ha 24 anni, è nato a Hamilton, è uno che va veloce, quindi, scherzi a parte, è davvero un profilo molto interessante che oggi vedremo contro i nostri, contro il nostro centrocampo, appunto. Poi, proseguendo in questo video, tra l'altro ieri c'è stata una serata a Milan Club, Cernobbio, bellissima, con Filippo Galli, Evani, Viercovud, il buon Ambrosini, Braglia, insomma, bella serata, e poi, più avanti, questa serata ha contribuito anche a un grande lavoro che stiamo portando avanti con Fabrizio Rota, il nostro grande videomaker, per voi e per noi di Milanello, un lavoro top, 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 del quale vado già molto orgoglioso, ma non posso ancora spoilerare nulla, ma tra poco vi inizierò a raccontare qualcosa. Dopodiché, il discorso, invece, degli arabi. Sul mercato, vediamo, ormai manca poco, finisce giovedì, quindi, contiamo i giorni, mi dispiacerebbe molto, non dovesse arrivare il difensore, soprattutto come segnale, in generale, soprattutto come segnale, ma magari non solo, ovviamente anche il discorso pratico. Allora, due news. La prima, ieri non sono riuscito a riportarla, due giorni fa, Tobia De Stefano ha parlato, che è un collega molto preparato, soprattutto per il discorso di calcio e finanza, ha parlato a Radio Rosso Nera, dopo che aveva scritto un pezzo su Panorama, dicendo che cosa, quello che sappiamo è che ufficiosamente non viene smentito, poi vi do invece un altro aggiornamento della rabbia, è che la necessità da parte di Redbird di pagare anticipatamente Elliot per il prestito fatto di 550 milioni, mi interessa al 7% l'anno. Difficile da trovare qualcuno che entri al 49%, sappiamo che ci sono stati contatti nel mese di dicembre, sia con Invescorp che con PIF. Nel primo caso non c'è stato seguito, quindi, secondo lui, no Invescorp, mentre quelli con PIF sì. È stata riportata la notizia di rappresentanti di Aramco a Milano per portare avanti la trattativa. La difficoltà è emersa a dicembre che PIF non avrebbe accettato di entrare come socio di minoranza, quindi o si tratta di una maggioranza, di una partnership che può perseguire, avendo come centrale il tema dello stadio. Per portare a termine il progetto serve circa un miliardo, impossibile da coprire interamente tramite prestiti bancari, per un 30-40% del totale c'è dunque la necessità di trovare una liquidità che Cardinale al momento non ha a disposizione. E Kegliot Non ha intenzionato a mettere in gioco. Nel normale andamento dei rapporti e operazioni finanziarie è anche giusto e corretto che Redbird da un anno dalla scadenza sia a ricerca di qualcuno che anche anticipatamente ripaghi il prestito. Il problema è capire a che tassi. Poi ancora, prevedi un passaggio di proprietà nel breve? Non so esattamente quando, ma secondo me è molto probabile che avverrà e sarà cruciale la questione stadio, sulla quale avete visto degli sviluppi molto significativi negli ultimi giorni. Dopodiché vi leggo anche quello che è stato scritto da un membro della Federazione Saudita dei Media Sportivi, analista tecnico interessato al campionato saudita italiano e al calcio europeo, giornalista sportivo per il quotidiano al YUM. Quindi un collega situato, localizzato in Arabia Saudita. Vi dico nel dettaglio, sfruttando ovviamente la traduzione, l'aspetto è molto importante. Ecco qui, traduci post. Forse è un tweet nuovo. Vediamo un po'. Allora, perché nominiamo il Milan per PIF? A causa di diversi fattori, in particolare il nome e il valore del Milan, considerato uno dei dieci club più grandi al mondo in termini di tifosi. È considerato il club più vincente d'Europa dopo Real Madrid, nonostante ciò il suo ultimo prezzo al momento di acquisizione da parte di Redbird, è di circa 1,3 miliardi di dollari. Il punto negativo è che Milan non ha uno stadio e questo è dovuto alla burocrazia italiana. Insomma, diversi punti, però questo non è il tweet, questo è il tweet fissato. Io volevo recuperare invece il tweet che mi interessava maggiormente, e che vado subito a recuperare, appena lo trovo, ovviamente, in cui sostanzialmente lui prosegue nella direzione, ecco, lo trovo qua, nella direzione da là, con ulteriori dettagli. Vediamo subito quello che ha detto questo collega giornalista dell'Arabia Saudita. Ecco, ho recuperato finalmente il post corretto. Mette la foto di Piff e di Cardinale. Allora, la cosa si svolgerà sia con una vendita totale o con una vendita relativa, sia per il prestito che Cardinale ha preso in prestito da Elliot, o per il nuovo stadio. Le mie fonti personali dicono ancora che così la vendita è inevitabile ed è questione di tempo. Resta solo un accordo sulla modalità di vendita. Cardinale vuole una vendita proporzionale, altri, soprattutto il Medio Oriente, vogliono una vendita totale o maggioritaria. L'ho menzionato più volte, e poiché alcune persone non vogliono crederci, ora alcuni stessi ci credono da fonti straniere, che probabilmente saremmo noi. Il tuo sostegno, Cardinale, a causa del licenziamento di Maldini, non dovrebbe fare di te una persona ignorante che cerca di diffondere bugie alla gente e negare che il proprietario del club abbia bisogno di soldi. Non so a chi si riferisce. Conclusione. Cardinale non può sopportare la pressione finanziaria e mediatica del Milano e vuole liberarsene in gran parte, sia venendo il club completamente che parzialmente. Poi, in virgoletato, potrebbe esserci un nuovo investitore a Milano che non è stato annunciato. C'è una richiesta di vendita da parte di Cardinale e c'è una valutazione delle offerte presentate. Potrebbero esserci sorpresi come quello accaduto in precedenza con Invescorp quando Redbird è intervenuto di recente e il Milano è stato comprato da loro. Quando parliamo della cosa più vicina a questo periodo c'è il fondo di investimento pubblico, cioè PIF. Il problema sta nella forma della vendita o della partnership, ma l'intenzione di vendere è presente. Cardinale non può sopportare questa pressione e il tempo lo rivelerà. Quindi, da là, in Arabia Saudita, fonti vicine a PIF sostengono che è questione di tempo, che il Cardinale è in difficoltà e che il passaggio a, in questo momento, PIF che è in pole position pare possa essere inevitabile. Con che forma, che condizioni questo lo vedremo, però si sta andando avanti e quindi non resta che aspettare con fiducia. Poi mi rendo conto, tanti dicono finché non vedo non credo, è legittimo, è legittimo, però nel frattempo il discorso prosegue e noi lo commentiamo con grande entusiasmo. Quindi, Tobia De Stefano, dei massimi esperti, ragazzi, ne parlano, ecco, posso dirvi una cosa, le mie fonti non sono della finanza, mentre lì, Belinazzo, Carlo Festa, Tobia De Stefano sono fonti legate alla finanza. Quindi, sono, in quel caso, del settore, sono grandissimi esperti. Oltretutto, appunto, c'è questo collega dall'Arabia Saudita, che anche da quelle parti scrive e racconta. Vediamo che cosa succederà. Nel frattempo, commentate numerosi, lasciate un like e iscrivetevi da questa parte. Qui sotto trovate anche il link per iscrivervi al mio canale personale. Vi aspettiamo anche su Instagram, la mia pagina personale è quella di Milanello. Forza Milan oggi più che mai, domani ancora di più. E vediamo anche come vanno i tre. Zirze, Ferguson e io spero male. Così non ci danno fastidio e magari li paghiamo anche di meno, nel caso. Un abbraccio. Così liberi. Posiziona l'articomma. Così liberi. Così liberi. Credi verb. Pensata. �� Grazie.